Io mi chiamo Mazzardo Giuseppe Il primo capo squadriglia è una strigliata Salve a tutti, sono Franco Costa, capo del gruppo scottili da Padre Primo I ragazzi mi stanno chiedendo perché ero nato in Villa Padre Terzo Ciao, sono Claudio Fiscelli Durante i miei anni da capo svolto Sono Francesca La Franca Che continuano a portare avanti lo scottismo con lo stesso amor Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti